Ciao a tutti, oggi prepareremo il semifreddo Belis. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 minuti più 3 ore per il raffreddamento in freezer. Gli ingredienti sono liquore tipo Belis, latte condensato, mascarpone e panna. Per quanto riguarda il liquore tipo Belis e latte condensato troverete le ricette nel nostro blog e le video ricette nel nostro canale YouTube. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo subito versando il liquore tipo Belis del boccale e il nostro latte condensato. Mescoliamo per 30 secondi a velocità di tre. Mettiamo da parte il nostro composto di latte condensato e Belis che ci servirà in un secondo momento. Adesso senza lavare il boccale andiamo a posizionare la farfalla, andiamo a mettere la panna e il mascarpone. Andiamo a montare il tutto per 1 min e 20 a velocità 3. Bene, adesso prendiamo 100 grammi del nostro composto di Belis e latte condensato. lo andiamo ad aggiungere. Amalgamiamo per un minuto a velocità 2. il nostro composto è pronto. Mettiamo tutti in una sciatola e amalgamiamo bene con una spatola. Quindi riempiamo una sac à poche con beccuccio tondo. Prendiamo lo stampino di silicone e riempiamo le pareti del composto lasciando vuoto all'interno. Dopo aver riempito la sac à poche andiamo a riempire la nostra formina. Adesso verseremo nella parte centrale il composto di Boobelis. Andiamo a versare il nostro composto di cuore di Boobelis e latte condensato nella parte centrale. e andiamo a chiudere il tutto con il nostro composto che adesso andremo a livellare con una spatola. Dopo aver livellato il composto andiamo a riporre la nostra formina in freezer per 3 ore. I nostri semifredzi sono pronti, andiamolo a decorare con la classe a specchio. Con l'aiuto di un cerchio posizioniamolo su un piatto, prendiamo la nostra tortina e la posizioniamo sopra. Andiamo a guarnire. Semi freddo Boobelis. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.